Contributi per una cultura dal volto più umano a tempo di rap La cultura è una figata ma ci vuole misura perché se te ne fai troppa ti ci vuole la cura Se ne abusi ti fa male vorrei proprio vedere o ti capita lo stesso se ti fai delle pere Quindi leggiti un libro e rifletti un momento Questo mondo è un'agenzia di collocamento Tutto va collocato in modo molto attento Però pugno un momento, pugno un momento Sei tu che gestisci il tuo apprendimento Gualtiero aveva delle giacche assolutamente improbabili Orribili di colori, sempre pastello, gialle, verdi, rosse E se le metteva in consiglio provinciale Io per un certo periodo avevo seguito il consiglio provinciale E ovviamente ogni volta scrivevo anche di queste cose cromatiche ignobili Allora lui mi ferma e dice seriamente Però potremo approvare una delibera almeno in provincia E poi allargarla a tutto il mondo politico Che tutti i politici si vestano del colore che rappresentano In modo che la gente li possa fermare E dire tu sei rosso e quindi sei il mio rappresentante Se io sono comunista tu sei verde Non pensando che poi i leghisti l'avrebbero preso sul serio Povero Gualtiero a pensare come si è imbarbarito il mondo Come i leghisti ricordino molto spesso le camicie brune Piuttosto che le camicie nere Beh insomma non l'avrebbe fatta Anche questo weekend gli italiani hanno cercato di raggiungere le località di vacanza Con delle partenze intelligenti Con il risultato che le code iniziavano appena fuori dal garage La situazione del traffico si è fatta grottesca Al punto che gli animali abbandonati in autostrada Spesso raggiungono l'hotel prima dei padroni Per questo abbiamo fondato la LIPAD La Lega Italiana per le Partenze Deficienti E quest'anno a Ferragosto Vogliamo partire alle 12 e un quarto In briachi di Cancarone Dopo esserci sfondati di coniglio con lo strutto montato a neve Unisciti alla LIPAD E parti un po' quando vuoi Perché in Italia partire è un po' restare Io ho sempre pensato che ci fosse una soluzione Per il sovraffollamento delle carceri Cioè parte dal presupposto che fuori dalle carceri In città si vive male C'è un traffico pazzesco La criminalità da tutte le parti Lo smog Allora se cominciamo a prendere le carceri E trasformarle in bei posti Tipo villaggio turistico Con delle belle camere da 5 stelle Poi ci mettiamo gli animatori Ci mettiamo le cene a tema Il buffet E poi prendiamo le persone oneste Che sono poche E le mettiamo tutte dentro le carceri Che ci vivono bene e tranquille e beate E i criminali che sono dentro Lo lasciamo in giro Tanto ce ne sono già tanti in giro E non se ne accorgerebbe nessuno Io penso che vi abbia meglio Quelli fuori e quelli dentro Allora io propongo delle gare O feste Sagre Di cuscinate Tra uomini e donne Da organizzarsi A Ikea Nei supermercati Ma anche nelle piazze Ma anche nei mercati comunali Per esplicitare la grande aggressività Che esiste ancora Tra i sessi E farla diventare Va bene Da un lato manifesta Dall'altro Se possibile Sdrammatizzarla E dall'altro ancora Così Farci un po' riflettere Perché Lo dico Proprio secca secca A tutt'oggi La maggior causa di morte Delle donne nel mondo Sono gli uomini Non è la miseria Non è le guerre E una donna su tre Tra i sedici E i settant'anni Subisce violenze Di ogni genere Allora io ho pensato Ecco Esplicitiamolo Piliamoci a cuscinate Come si faceva da piccoli Diciamocelo Facciamo delle belle squadre Maschi contro femmine Vinca il peggiore E poi ce lo diciamo La mia idea Parte dalla constatazione Che i momenti più imbarazzanti Sono quei pochi secondi A volte anche minuti Che si passano in ascensore Ora Perché tutti gli ascensori Devono essere così Desolatamente spogli Perché non appiccicare qui Per esempio La ricetta della polenta taragna In modo che uno Possa perlomeno fare finta Di interessarsi a qualcosa Oppure anche Le estrazioni del lotto Addirittura Penso anche A istituire Una sorta di Di animatore Di ascensore Uno che appena entri Ti fa il gioco delle Tre carti In modo che tu ti possa Occupare di qualcosa Senza essere costretto A guardare negli occhi Il tuo passeggero Insomma chi sta in ascensore Se te capisci E questo Ovviamente Contribuirebbe Contribuirebbe Anche a creare Un sacco di posti di lavoro Io vorrei che gli adulti Studiassero Bambinologia Vorrei che Gli adulti Eliminassero Tutti i recinti Dei parchi giochi Vorrei che Eliminassero I tappetini Quelli per attutire i colpi Vorrei che i bambini Si facessero Tanto male Nel giocare Vorrei che giocassero Nei parchi E invadessero Tutti i parchi Vorrei che Infastidissero I nonni e le nonne Costringendoli A giocare insieme Vorrei Marciapiedi A tre corsie Vorrei Eliminare I vestiti Dei bambini Che assomigliano A quelli degli adulti Vorrei Che i bambini Potessero dire Le parolacce Vorrei Che ci facessero Dei dizionari Di parolacce Vorrei Che si studiassero A scuola Le parolacce E che si imparassero Quelle dei nonni E quelli dei vecchi Vorrei che si studiassero L'etimologia Delle parolacce Così almeno Sappiamo usarle Come e quando Dobbiamo E vogliamo usarle Andiamo in un albergo Magari in una pensione Tre stelle Troviamo di solito Un po' rinsecchito Il sacchettino La bustina Che contiene Lo shampoo E il bagno schiuma A volte in un'unica busta Che cosa succede Uno va sotto la doccia Accende Prepara L'acqua Al punto giusto Tenta di aprire la bustina Non ci riesce Mai A quel punto Scattano Dei tentativi Belluini Si cerca addirittura Di aprirla Con i denti Allora Signori gestori Degli alberghi Perché non pensate A delle boccette O anche semplicemente A dei dispenser Come si usano In tanti paesi Del mondo E qui Semplicemente Premendo Viene giù Tanto il bagno schiuma Quanto lo sciamo Uno dei problemi Che affliggono Maggiormente I centri urbani È quello Della presenza Del traffico Problema che si fa Via via più intenso Man mano che ci si avvicina Al centro E allora Io propongo Una soluzione Molto semplice Perché il centro Delle città Non lo facciamo fuori In periferia Dove questi problemi Sono molto più leggeri Tra l'altro Il tema del decentramento Si pone in moltissimi ambiti E questo del centro urbano È diciamo Uno dei più significativi Perché il centro Rappresenta proprio In se stesso L'idea di centralità Se questo non fosse realizzabile Si potrebbe Diciamo utilizzare Invece il percorso inverso Cioè prendere le periferie Che soffrono Di emarginazione urbanistica E portarle in centro Come propone L'architetto giapponese Non ricordo il nome Che appunto Ha il progetto Di portare Tutto il quartiere Di Torre Bellamonaca Proprio nell'area vaticana Allora Ricominciamo a fare Cultura Cultura con la K Cultura con la C Cultura con TH E quindi con tanti modi diversi Di poter interpretare La parola cultura Io personalmente Credo che l'unica cultura Che mi posso permettere È quella Che vivo E che pratico E che cerco di mostrare Ai miei figli Dove per cultura Intendo Rispetto Onestà E fiducia Fiducia Che si può fare Qualcosa Per cambiare Sono stata criptica L'assessora La fantasia Dovrebbe esserci In ogni comune Perché Secondo me La fantasia È una cosa fondamentale Per fare le cose serie Senza fantasia Le cose serie Vengono male Vengono in bianco e nero Ogni anno Centinaia di persone Fanno perdere Le proprie tracce Gettando nello sconforto I loro familiari Che subito danno il via Ad estenuanti ricerche Dall'esito Spesso incerto Il dato più sconcertante È che a scomparire Sono generalmente Persone innocue E sensibili Ma è una volta Che si tratti Del tuo capo ufficio Di un politico O di tua suocera O di altre persone Di tua conoscenza Che renderebbero Un grande servigio Alla collettività Levandosi dalle palle Una volta per tutte Per questo Abbiamo fondato La Lispeg La lega italiana Per la scomparsa Delle persone giuste Insieme Possiamo convincere Il tuo capo ufficio Che una nuova vita Lo attende in Turkmenistan Insieme Possiamo dare A tua suocera Un biglietto di sola andata Per l'Africa centrale E se necessario Ti aiuteremo A collocare La vecchia zoccola Su una vera E propria catapulta medievale Unisciti alla Lispeg Perché Lontano dagli occhi Vicino al cuore Io credo che sarebbe molto utile Anche Politically correct Cambiare il nome All'attuale sinistra italiana E chiamarla Diversamente destra Sono dal mio dentista Che è un amico È una brava persona Sicuramente non è stupido Si chiama Pippo E fa odontoiatria umanitaria Con una onlus Sa che lavora con emergency E mi dice improvvisamente L'altro giorno Vengo da un congresso Siete stati criticati molto Per il vostro centro di cardiochirurgia In Sudan Perché è gratuito E quindi non è etico Non è etico fare sanità gratuita Certamente perché il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale Sostengono che Nei paesi del terzo mondo La sanità deve ispirarsi ai principi del recupero dei costi I pazienti devono assolutamente pagare E per la sostenibilità del progetto E per la sostenibilità del progetto Dico Ma Pippo Mi stai dicendo che fai le dentiere ai negri e poi ne le fai flagare Mi pare che un pochino impallidisca Mi dice E no Zero risorse Non potrebbero Dai La dentiera gliela facciamo lo stesso Poi il modo si trova Ho capito Mi sta dicendo Che non esiste alternativa in questi paesi La sanità gratuita Basta che non lo sappiano quelli della Banca Mondiale Perché si incazzano Sono gente sensibile Sono gente sensibile E li costringono ad accettare la loro etica Tenendoli per il collo di un debito insostenibile Ma si preoccuperebbe il loro amor proprio Se gli dai la pappa fatta Questi finiscono per perdere la fiducia in se stessi La fiducia nella loro capacità di autodeterminazione Ah ho capito Sanità a pagamento Ma per il loro bene Ho capito Pippo D'ora in poi A emergency cercheremo di tenerne conto Da vecchio ormai automobilista Ho sempre sognato Che si potesse istituire Un ordine cavalieresco stradale Nel senso Di attribuire Proprio agli automobilisti Più meritevoli Una sorta di investitura Di investitura della propria Chi è il cavaliere della strada? È quello Che non supera mai i limiti di velocità È quello Di cui ti puoi fidare Perché si ferma magari Per aiutarti a Cambiare una gomma È quello che ti fa strada Per esempio Quando c'è una nebbia impenetrabile Insomma Ecco E dovrebbe essere riconosciuto Proprio attraverso un simbolo Da apporre Sul finestrino della macchina Proprio con un'assicurazione Eccetera E penso Che questa figura Sarebbe molto rassicurante Per anziani automobilisti O anche Per signore Che viaggiano da sole Dunque Una proposta Che si potrebbe fare È per esempio Nei supermercati Che i sacchetti Per la spesa Li distribuissero già aperti Che così non stai delle ore Alla cassa Con tutta la coda lì Che aspetta Tu a fare Scusi eh Ora Ecco Questa è una proposta Giusto per Per alzare il livello Di questa intervista Tempo fa Volevo Interprendere una campagna Per abolire Il termine onorevole Dedicato ai nostri Parlamentari Questo per allenare Il nostro paese A una democrazia Più antica Come l'Inghilterra Dove Basta il termine Mister Poi mi hanno detto Che avrei dovuto Entrare in politica Avrei dovuto Farmi alleggere Al Parlamento E avrei dovuto Usare il termine Onorevole Allora ho cambiato idea Adesso Ho un'altra proposta Vorrei Che il termine onorevole Fosse Dedicato Anche ai gatti Perché sono Tra gli animali Più politici In assoluto Quando Vogliono ottenere qualcosa Diventano carini Affettuosi Simpatici Poi però ti accorgi Che mangiano a casa tua Ma Non hanno nessun senso Di riconoscenza Sono indipendenti Spesso Inaffidabili Qualche volta Ladri Il mio gatto Si chiama Pablo E io lo chiamo Onorevole Pablo Io ritengo Che uno dei momenti Più significativi Nella storia del design Si sia realizzato Con l'invenzione Delle forbici Con le punte arrotondate Da quel momento in poi Moltissimi incidenti Specialmente Negli utenti giovani Nei bambini Sono stati limitati E un fatto Che mi stupisce molto È Chi Come mai Colui o colei Che ha avuto Questa grandiosa idea Di inventare Le forbici arrotondate Non abbia pensato Anche di limitare Diciamo Il taglio Delle forbici Perché se Oltre ad aver arrotondato Le punte Si fossero fatte Anche forbici Che non tagliano A quel punto Si sarebbe Eliminato completamente Il problema Degli infortuni Legati all'uso Di questo Utilissimo oggetto Vorrei onorare Qualchiero Schiaffino Perché Ci manca Ci mancherebbe Ci mancherà O c'è già mancato Comunque Chiederemo Chiederò Chiederanno All'ufficio Toponomastica Del comune Di intitolargli Il sorgere del sole Ogni alba Gualtiero Schiaffino Che Dio comanda Grazie Uno si alza Va al bar Fa la colazione Chiede un caffè Chiede La classica striscia Di focaccia O il cornetto Maritozzo Che dir si voglia E a quel punto Non sa come mettere Lo zucchero Perché con una mano Deve girare Deve manovrare La tazzina Con l'altra Deve aprire La bustina Da quando Non esistono più Le zuccheriere A scomparsa E con la terza Dovrebbe Dovrebbe Lavorare Sulla focaccia E intingerla Nel caffè Allora Modestissima proposta Perché i gestori Dei bar Qualcuno Lo fa già I più gentili Lo fanno già Non pensano A mettere un piattino Accanto Dove posare La nostra focaccia Senza doverla posare Sul banco Tutto sbanacciato Abbiamo parlato Tra insegnanti Del problema Di come i ragazzi Adesso Non hanno la minima idea Di cosa sia Il mondo del lavoro E mi è venuto in mente Come in Unione Sovietica Una volta Usava far fare Ai ragazzi Un mese Un paio di mesi Non mi ricordo Di campo estivo Lavorando Nei campi O in fabbrica E questo mi ha fatto Venire in mente Un'altra cosa Un serio problema Che abbiamo adesso È che abbiamo Ministri della pubblica istruzione Pardon Ministri dell'istruzione Che non hanno La minima idea Di cosa sia la scuola Se non Qualche ricordo Del loro liceo Del centro Di Milano Negli anni 60 E allora pensavo Perché loro Avessero un pochino Più l'idea Di quello Di cui stanno parlando Potremmo istituire Un campo obbligatorio Per ministri E per tutti quelli Che parlano di scuola Di diciamo Almeno un mesetto In istituto tecnico O meglio Professionale Di periferia Dopo questi piccoli Stagi obbligatori Secondo me Possiamo riprendere A parlarne Ho spesso notato Che il turista Quando arriva in Italia È un pochino deluso Perché non trova Quelle cose Che si aspettava Di trovare Si aspetta Di trovare Le rovine Di trovare Le rovine ovunque Di trovare Un monumento qua Di trovare Da un'altra parte Le terme E così via Insomma E la mia idea È Perché Non Non assecondare Le aspettative Di questi turisti E vestirci Noi Da antichi romani Io per esempio Da legionario Lui da Centurione Da la signora Da matrona Oppure da schiava E così via Insomma E potremmo anche Immaginare Di costruire Un colosseo Di carta pesta Qui a Milano Per chi non avesse Il tempo Di andare Fino a Roma I tassisti Potrebbero guidare Delle bighe Ad esempio Ecco E allora A questo punto Però Voi mi chiederete Ma Che cosa Ce ne verrebbe In cambio Quale sarebbe Il vantaggio È molto semplice Noi Non pagheremmo Le tasse Molto semplicemente Qualche anno fa Lapo Elkan Giovane rampollo Della famiglia Agnelli È stato ricoverato Al pronto soccorso Di Torino In circostanze Che gli hanno permesso Di ridefinire Il concetto stesso Di figura di merda La divulgazione Dell'episodio Ha dato grande scandalo Le sue ripercussioni Sull'economia Rimangono ignote Perché Gli analisti di mercato Stanno ancora ridendo Adesso Per questo Abbiamo fondato La Limad La lega italiana Per i manager in difficoltà Se sei un celebre imprenditore E nel corso di una serata Fra amici Dovesse ritrovarti Chissà come Con una pannocchia nel retto Non andare al pronto soccorso Telefona Al nostro numero verde Una squadra di esperti Nel pronto intervento Risolverà la tua problematica Con la massima discrezione Rilasciandoti poi Regolare fattura Con la causale Master di approfondimento Nell'insider trading Quando sei nei casini Chiama la Limad Perché Si sa Fra amici Una mano Leva l'altra 2012 Come tutti sanno Nel 2012 Il mondo finirà Sarà per una congiunzione Di astri Sarà per Un'onda anomala Gravitazionale Che investirà la terra Sarà per l'inversione Dei poli magnetici Comunque finirà Lo hanno previsto Imaia e gli autori Di X-File Finirà per noi Ma anche per Berlusconi E i giudici Che gli corrono dietro Per D'Alema Per Rutelli Per un sacco di altra gente E questa è una prima consolazione Ma l'altra è che abbiamo Una grande opportunità Di utilizzare questa cosa Per procrastinare Tutto quello che odiamo A dopo Il 31 dicembre 2012 Quindi multe da pagare Tasse Altre menate Cosa mi può venire in mente Rate di mutuo Contributi Lavori odiosi E tutto il resto Eccetera Anticipiamo invece Tutto quello che abbiamo Sempre desiderato Di fare Nella vita Cioè Un bel viaggio Intorno al mondo Sedurre quella bonazza Della nostra vicina Ballare il rock Sui banchi Farci una canna In ufficio Sedurre qualcuno Che c'è Qualcun altro Insomma Dire finalmente In pubblico Tutto quello che abbiamo Sempre Pensato La fine del mondo Comunque ci sarà E comunque Dopo il 2012 Ci sarà una bella festa Il giorno del giudizio Fest Comincerà il 21 dicembre 2012 E finirà All'alba Del primo Gennaio 2013 Ci saranno un sacco Di celebrazioni Per festeggiare L'inizio Di una nuova era Ecco Quello che c'è da dire Che comunque Vada Voi vi sarete presi Delle belle soddisfazioni Buona fine Del mondo A tutti Sono contento di parlarvi Dal balcone Della terrazza In cui sorgono Gli studi televisivi Dai quali trasmetto Ogni giorno E per parlarvi Del pensiero laterale Sono particolarmente contento Perché alle mie spalle C'è la spianata di Castelletto Nella quale regolarmente Ci incontravamo Con Gualtiero Tra gli anni 90 E gli anni 92 Per dare vita All'uovo qualunque E attraverso L'ironia Dell'uovo qualunque Gualtiero Schiaffino Ci invitava Il pensiero laterale E ci invitava a lavorare Con l'ironia Contro la piattezza Del mondo Contro il piattume Del mondo E io qui In questo momento Da questo nostro osservatorio Posso dimostrarvi Come la terra Sia piatta amici Noi non siamo Assolutamente Su una sfera Che gira su se stessa Perché se girasse Su se stessa Noi schizzeremmo Chiaramente via Ma è normale Questo lo sappiamo tutti Avviene solo Nella nostra lavatrice La terra Come possiamo vedere È assolutamente piatta Il sole Lo si può vedere Ogni mattina Sorge Lui che si sposta Intorno a noi Non gira a sinistra Come alcuni studiosi Ci vogliono far credere Il Bersani Il Franceschini La prova dei fatti È che non è assolutamente così E questa è la certezza Questo ci invitava Gualtiero Attraverso l'ironia La certezza Il 25 dicembre È un giorno per nascere Non per andarsene via Gualtiero Non per andarsene via